42. Isabella Fui chiamato presso il cerchio esseno dove molti anni prima avevo ricevuto in apporto una vertebra dall'entità amideo, un dono che può sembrare macabro ma che, al di là di ogni illogica poveramente umana, contribuì alla liberazione di questa entità dal suo antico corpo. La liberazione è avvenuta dopo altri apporti dello stesso tipo donati ad altri partecipanti del Cenacolo nel corso di molti anni del nostro tempo fisico. Come ho riportato in un altro libro, Amedeo era rimasto emotivamente molto legato al suo ultimo corpo fisico, quando tre secoli prima era trapassato molto giovane. Sempre scomponendo il suo antico corpo attraverso le transe del cerchio esseno, Amedeo è riuscito a liberarsi, apporto dopo apporto, dalla sua ossessione e si è avviato verso stati di coscienza più ampi. La sera del mio ritorno all'esseno non doveva esserci la transe dello strumento, ma solo un'occasione di abba comanzia, che è il nome generico di tutte le mantiche che si valgono di tabelle ottavole per l'interpretazione di particolari pratiche divinatorie. Quella sera lo strumento dell'esseno eseguì, insieme a una delle sue due figlie, la tabellomanzia, un'altra pratica dell'abba comanzia, ossia il comune tabellone. Per prima si manifestò l'entità Isabella, che muoveva il supporto su cui poggiavano le dita dello strumento e della figlia ad una velocità molto elevata sulle lettere del tabellone. Solo l'oncologo D.R., che è il coordinatore del cerchio esseno, riusciva a decifrare le frasi che l'entità componeva troppo velocemente per le mie capacità di lettura sul vetro del tabellone appositamente costruito da un partecipante del cenacolo. Durante un'interruzione dell'abba comanzia, lo strumento del cerchio esseno mi mostrò una foto di Isabella, da viva, che era appesa al muro e mostrava una donna, sui 35 anni, con al collo una catenina con un ciondolo. Entrambi gli oggetti erano ben riconoscibili. Seppi che l'entità Isabella aveva avuto una vita molto travagliata ed era stata la madre di tre figli. Lo strumento dell'esseno mi spiegò che, dopo qualche tempo che si manifestava al tabellone, fu chiesto all'entità Isabella di lasciare un'immagine di lei per permettere ai partecipanti del cenacolo di ricordarla per come era in vita. Durante una trance nel buio totale della stanza, Antonello, l'entità preposta ai fenomeni fisici del cenacolo, aveva materializzato, facendola cadere dall'alto, la fotografia di Isabella, che io adesso osservavo insieme allo strumento e ad Anna, una signora che si era intanto avvicinata a noi. Anna mi disse che anni prima era stata colpita gravemente da un cancro al seno e si era preparata ad una intensa cura chemioterapica, tagliando i capelli a zero. Nel frattempo aveva continuato a frequentare il cerchio esseno, dove era stata visitata da una guida del cenacolo chiamata Il Cerusico, che durante le trance dello strumento curava alcuni partecipanti dell'esseno. Il cerusico disse ad Anna che sarebbe stato lui a guarirla imponendole le mani dello strumento in trance e che non avrebbe avuto bisogno di alcuna chemioterapia. E così fu. Dopo le cure del cerusico, Anna non fece altro che attendere, indenne da ogni cura umana, la ricrescita dei suoi capelli. Nel frattempo si era particolarmente affezionata all'entità Isabella, tanto che al tabellone, Isabella si manifesta solo attraverso questa mantica, la pregò di lasciarle un ricordo di lei. Durante una riunione in cui era prevista la trance, Antonello, la guida fisica del cerchio esseno, materializzò per Anna guarita dal cerusico la stessa catenina con il ciondolo che appariva al collo di Isabella nella fotografia appesa al muro. È quasi inutile aggiungere che Anna mi mostrò con amore quell'apporto da cui non si separa mai. Ne approfitto per ricordare che nel Cenacolo Umanità e Movimento, che da più di trent'anni produce solo fenomeni fisici, la guida Enzo M. chiama gli apporti doni divini.